E' stato arrestato e si trova all'interno del carcere Due Palazzi di Padova, un profugo originario del Mali, accusato di violenza sessuale su una ragazzina di 17 anni. I fatti sono accaduti in un comune del Padovano. La ragazza è stata avvicinata dal giovane che si trovava in bicicletta. Una morsa stretta, violenta e le mani che abusavano della 17enne. La giovane fortunatamente è riuscita in preda al terrore a divincolarsi e fuggire. Con il cellulare ha chiesto aiuto, indicando il posto dove il giovane immigrato si trovava. I carabinieri lo hanno individuato e lo hanno portato in carcere. Sono in corso ulteriori indagini. L'aggressore è uno dei profughi arrivati con il barcone a Lampedusa e poi portato al nord. Dove si è ospitato al momento non si sa e del resto con i sistemi di identificazione in atto. Saperlo diventa poco probabile. In queste ore sono scattate una serie di polemiche su internet, numerosi commenti che si leggono su Facebook e per l'ennesima volta il presidente della regione Veneto parla di drammi annunciati. Uno delle migliaia di fantasmi senza volto né identità che girano liberamente nel Veneto ha colpito. Purtroppo eravamo stati facili profeti nel lanciare inascoltati dal governo e dall'intero impero romano un forte e ripetuto segnale d'allarme rispetto alla possibilità che nel caos che regna sovrano si verificassero reati e atti rivoltanti come questo, spiega Luca Zaia. Per il presidente Veneto il meccanismo di identificazione disposto dal governo fa acqua da tutte le parti e questo tragico evento lo dimostra.